La squadra, facendo un'analisi obiettiva e lucida, credo che la squadra avrebbe meritato qualcosa di più. La squadra ha avuto un'interpretazione alla gara perfetta, poi poteva essere più risultiva, però ha capito ogni fase di gioco, come interpretarla, come giocare. Abbiamo concesso una palla a gol al Milan nel primo tempo su un disimpegno errato e poco altro se non sono ripiazzato la difensiva. Noi abbiamo creato un po' di più, così come nel secondo tempo, e credo che la squadra meritasse qualcosa in più. Ovviamente, quando le partite sono anche un po' in equilibrio, gli episodi fanno la differenza e ti fanno andare le partite in un binario rispetto ad un altro, ma questo ormai lo sapete meglio di me, che gli episodi decidono molto spesso l'andamento di una gara. Sì, un po' troppo, nel senso che i ragazzi sanno che bisogna essere lucidi anche quando pensiamo di subire un torto, o si subisce un torto, perché a volte la differenza è minima, ma diciamo che gli ultimi 20 minuti o un quarto d'ora non si è più giocato, questo grazie all'esperienza del Milan che ha smesso di farci giocare, facendo il loro dovere, ma ci è stata data la possibilità di dare un'intensità finale alla gara, perché credo che la squadra avesse anche qualcosina in più del Milan, ma quando si parla di esperienze e di concessioni è questo, quindi ci può stare, che la squadra possa andare un po' fuori di giri, ma credo che non abbia nemmeno esagerato. L'episodio del gol di Dodò? È un episodio che giudica? Allora, avete gli occhi come me, vedo che ce n'è pure qualcuno in più di te, che mi puoi aiutare in questo. Purtroppo si sbaglia, si dice, ho fatto una battuta prima, si dice che all'arco del campionato si compensano i torti ai favori, io sono arrivato tardi, ma mi auguro di riguardare la fine, ma per ora non ho visto la grossa equità, mi dispiace perché determino i risultati, però ci sta oggettivamente anche che un arbitro possa sbagliare, bisogna farlo sbagliare anche in pace, come stiamo facendo noi, ci dispiace, andiamo a casa amareggiata, in questo momento della stagione i punti valgono di più per tutte le squadre e quando subisci chiaramente un torto c'è un po' di amarezza in più. Siamo nel calcio, bisogna accettarlo e guardare avanti, portante da accanto mio e non trasmettere alibi alla squadra da qui alla fine, perché abbiamo bisogno di avere questa concentrazione che la squadra ha dimostrato, di avere oggi anche questo spirito di gruppo, perché veramente ho visto una grande squadra oggi nel suo insieme a livello tattico, a livello tecnico, potevamo fare forse qualcosina in più, ma a livello mentale anche la squadra ha dato il massimo e ha fatto la prestazione di alibi.